Vieni qua che ti risolvo, ti faccio vedere c***o io quanto sono bravo, perché mi diverto a risolverli. Imparate una cosa, quando un collaboratore viene da voi con un problema, torna indietro, vieni con altre due soluzioni, mi porti il problema e due soluzioni, se no non venire, io non pago le persone per portarmi i problemi. Siete un solutore di problemi operativi, basta, avrete finito il vostro tempo a un certo punto. I collaboratori devono portarvi anche soluzioni.